no 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 come on come on ma che c***o? e va bene anche se sta dicendo algo si capisce tutto ma di che? allontanano un po' ho letto troppe volte un coschi scrivo poesie 3 4 e 3 scrivo poesie per portarmi alle tolle ragazze mi capucoschi per portarmi alle tolle ragazze mi capucoschi per portarmi alle tolle ragazze e la stai allora va 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 è da buoni a pittura non è che con l'unico non è che con l'unico si Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.